omicidio anastasia emergono in retroscena del delitto a monbaroccio l'ultimo saluto alla quattordicenne milena sisma partita la rimozione della ciminiera molaroni torri al porto il tar da ragione ai costruttori passi avanti per realizzare a pesaro il centro per autismo buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv e ben ritrovati a rossini news ben ritrovati al nostro telegiornale che in questa edizione di mercoledì 16 novembre apriamo col fatto di sangue che sta caratterizzando questa settimana sul nostro territorio il femicidio afano della 23enne ucraina anastasia ieri sera è stato convalidato l'arresto del marito per omicidio e dall'interrogatorio sono emersi alcuni retroscena di questo atroce delitto è stato convalidato l'arresto nel carcere di bologna del 42enne amrallah mustafa alashri marito killer della 23enne anastasia fuggita dalla guerra in ucraina è arrivata lo scorso a marzo da kiev afano dove si era integrata come cameriera all'osteria dalla peppa e come insegnante di pianoforte dall'interrogatorio in carcere l'omicida ha ammesso il crimine cercando però di attenuarne i contorni argomentandolo come una reazione non voluta all'ennesimo acceso litigio di cui però ha detto di non ricordare i dettagli i fatti nella casa di via trieste dicono però che anastasia è morta coltellata e che il marito ha cercato di sbarazzarsi del cadavere rinchiudendolo in una valigia poi abbandonata nelle campagne fanesi e decidendo di darsi alla fuga verso l'austria con 3500 euro non prima però di aver concluso il suo turno di lavoro alla pasticceria fanese cavazzoni il marito è stato arrestato domenica sera alla stazione di bologna il corpo di anastasia è stato ritrovato lunedì mattina nella campagna fanese di villa giulia su indicazione dello stesso assassino che aveva commesso il delitto domenica mattina sia in ucraina sia a fano anastasia aveva continuato a subire maltrattamenti dal marito molestie ridimensionate sotto le bombe amplificate arrivata in italia dove anastasia decide presto di troncare i rapporti di frequentare un nuovo ragazzo appena l'11 novembre scorso anastasia si reca in caserma con la sua avvocata per denunciare i maltrattamenti del marito ma la scorsa domenica mattina lascia il figlio e il nuovo compagno per andare nell'abitazione del coniuge a recuperare alcuni vestiti qui però arriva l'incontro fatale con l'egiziano domenica il nuovo compagno le telefona ripetutamente in vano e scatta la denuncia per scomparsa che porterà fino alla cattura dell'omicida ora a breve attesa a fano la madre di anastasia che vive in slovacchia per accudire il bambino di due anni rimasto orfano in attesa del pronunciamento del tribunale dei minori E' stata una giornata di lutto cittadino oggi a Monbaroccio in occasione dell'ultimo saluto alla 14enne Milena Lentini morta sabato dopo un terribile incidente stradale avvenuto quattro giorni prima a Pesero in zona Santa Veneranda Resterai sempre nei nostri cuori Ciao Mile Uno striscione affisso all'entrata della chiesa dei Santi Vito e Modesto di una Monbaroccio stretta nel dolore della famiglia Lentini Bandiera mezzasta in un paese che in questo 16 novembre si è chiuso nel silenzio di una giornata di lutto cittadino e si è ritrovato nella chiesa del Borgo per l'ultimo saluto a Milena volata in cielo ad appena 14 anni Milena è morta sabato all'ospedale di Ancona dove era ricoverata da martedì in gravissime condizioni Quattro giorni fa l'auto sulla quale si trovava a bordo si è schiantata frontalmente e fatalmente con un'altra macchina Santa Veneranda all'incrocio fra strada Ponte Valle e strada Valle Tresole Con lei a bordo la coetanea Denise e il 19enne Matteo alla guida feriti e dimessi dopo le cure dell'ospedale di Pesero Milena invece non ce l'ha fatta e il vescovo Sandro Salvucci che ha ufficiato la funzione assieme a padre Renato ha cercato nelle sue parole di porgere una carezza al dolore inconsolabile di papà Domenico del fratello di 17 anni, della sorella di 12, di nonni e zii con la zia Stefania diventata una seconda madre dopo che mamma Marianna era morta di leucemia nel 2019 Lacrime e amore, quelle dei tanti amici, dai compagni di scuola ai ragazzi della Proloco Giovani alla quale Milena si dedicava una comunità ferita e stretta nel dolore che ha accompagnato l'uscita del feretro con palloncini bianchi diretti al cielo che da oggi, come ricordato nei messaggi, ha una stella in più Le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono invece ad un incidente avvenuto ieri sera attorno alle 18.30 in autostrada a 3 km a sud dell'area di servizio Foglia Est un luogo in cui si è rovesciato un tir che trasportava 65 maiali incidente con cause al vaglio della polizia autostradale è rimasto illeso il conducente del tir mentre alcuni degli animali sono deceduti nell'impatto altri invece sono usciti dal carico camminando pericolosamente sulla carreggiata si sono create lunghe code per la messa in sicurezza dell'area e il recupero degli animali grazie al lavoro di vigili del fuoco, personale del servizio veterinario e del servizio autostradale con un giorno d'anticipo rispetto ai piani iniziali è cominciata già oggi l'operazione di rimozione della ciminiera Molaroni che da domenica risulta pericolante e che ha costretto alla chiusura al transito di Via della Robbia così come all'evacuazione di 30 persone, molte ospitate in albergo operai e autogru al lavoro con la rimozione mattone dopo mattone del reperto di archeologia industriale ottocentesca della tradizione ceramista della città le operazioni sono funzionali a riaprire al più presto la strada e a far rincasare le famiglie evacuate intanto continua per l'ottavo giorno lo sciame sismico con epicentro al largo della costa pesarese anconetana alle 9.57 di oggi la scossa più intensa è stata di magnitudo 3.2 dopo quasi due anni potrebbe chiudersi la telenovela delle torri da edificare al porto di Pesaro sul terreno in cui fino al 2020 sorgeva il decadente ex consorzio agrario dal tribunale infatti arrivano importanti sviluppi processuali il tar delle marche dà ragione alla società Nova Portum il giudice ha colto infatti il ricorso della società di costruzione formata da un fondo israeliano e dalla pesarese Renco che da due anni poteva già avere avviato l'edificazione di due torri da circa 80 appartamenti sul terreno dell'abbattuto ex consorzio agrario terreno che a fine 2020 fu spianato per un avveniristico progetto bloccato però a febbraio 2021 in seguito a un interprocessuale innescato da una segnalazione della Capitaneria di Porto comando di guardia costiera che infatti poneva dubbi sulla possibilità di edificazione in area portuale di una struttura non intrinsecamente legata alle attività del porto qual è un complesso residenziale da lì sono seguiti 20 mesi di incidente probatorio il rinvio a giudizio di tre persone con accusa di abuso edilizio perizie, inchieste penali fino all'individuazione di cavilli burocratici sul piano regolatore cavilli che ora il tar ha interpretato come un refuso sul PRG che diventa una sentenza quella del tribunale che condanna il comune di Pesaro a correggere quel refuso che impediva la costruzione una correzione da operare entro 30 giorni dalla notifica con conseguente convocazione del Consiglio Comunale con tempi e regoli procedurali dell'Assemblea per approvare la variante normativa funzionale al ricorso una variazione alla quale il comune non farà troppa resistenza visto che fu la stessa amministrazione all'epoca a rilasciare il permesso di costruzione poi abortito da questo processo potrebbe dunque essere la svolta di una telenovela che può riattivare le ruspe per cominciare ad alzare le torri nel 2023 e dunque spetterà ad uno dei prossimi consigli comunali sbloccare definitivamente le edificazioni delle torri da 80 appartamenti al porto di Pesaro l'ultimo consiglio ha invece impresso un importante passo avanti per quello che riguarda la realizzazione di un centro sanitario dedicato all'autismo che la città di Pesaro attende da anni Un primo passo per la realizzazione di un centro per l'autismo a Pesaro un primo step che si è concretizzato ieri dopo che il consiglio comunale ha votato all'unanimità la variante sostanziale al piano regolatore riguardo l'area di proprietà dell'Asur in via Vatielli proprietà che da ieri vede un importante cambio di destinazione d'uso da servizio per l'istruzione di base a servizio d'assistenza sociale sanitaria L'attuale immobile di Villa San Martino, individuato nel 2019 come destinazione ideale per un nuovo centro è stato realizzato negli anni 70 come scuola materna ed ora con questo provvedimento verrà demolito per far nascere la nuova struttura sanitaria Oltre al cambio di destinazione, l'Asur ha ottenuto un aumento dell'edificabilità a 1.208 metri quadri di superficie netta con la possibilità di realizzare due piani fuoriterra Un progetto che ha visto in questi anni un confronto continuo tra amministrazione comunale e regionale ATS1, Asur regionale e area vasta 1 l'ente che dovrà realizzare il progetto Una variante urbanistica che il centro-sinistra invita a massimizzare la velocità di approvazione contando di avere quanto prima il progetto completo e trovando le risorse per concludere questo servizio che verrebbe fornito alla cittadinanza 13.750.000 euro Sono queste le risorse annunciate dall'assessore Stefano Aguzzi che la Regione Marche ha destinato a interventi di difesa della costa che stanno per partire nello specifico a Porto Sant'Elquidio, Fano e Marotta di Mondolfo Lavori che sono fondamentali per scongiurare l'erosione costiera A Fano in particolare con un intervento generale che prevede l'impiego di 4.400.000 euro è stata finanziata la progettazione di opere dal torrente Arzilla a Fosso Segliore Sul litorale di Marotta invece si interverrà con un finanziamento di 1.600.000 euro messi a disposizione dalla Regione e dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per far fronte ai danni causati dalle eccezionali mareggiate di novembre 2019 Ed ora parliamo di sicurezza e in particolare di un innovativo sistema di videoallarme anti-intrusione che sarà presentato venerdì all'hotel Flaminio dall'azienda pesarese AS Tecnologie di Sicurezza Venerdì 18 novembre all'hotel Flaminio di Pesaro a partire dalle 18 verrà presentata un innovativo dispositivo di AS Tecnologie di Sicurezza un video allarme che è destinato a cambiare anche la prospettiva per aziende ma anche per le forze dell'ordine AS Tecnologie di Sicurezza è rappresentata dai coniugi Paolo Nicolini e Serenella Albonetti ai quali chiediamo il valore aggiunto che darà questo dispositivo Sì, io ringrazio in primis la CNA che mi ha permesso di conoscere questo dispositivo che è un aiuto per le forze dell'ordine ma soprattutto per la sicurezza partecipata della città è un dispositivo che viene allacciato direttamente alle proprie telecamere e che ti dà la possibilità di essere collegato in contemporanea con le forze dell'ordine perché alla generazione di un SOS, di un allarme immediatamente le immagini vengono aperte nella sala delle forze dell'ordine e loro hanno subito la visione di quello che sta succedendo Si tratta di una novità assoluta per la realtà pesarese? Per la realtà pesarese è quasi assoluta perché è stata provata in periodi precedenti dove però non è appreso piede perché nell'epoca non esistevano molti impianti di telecamere per cui diciamo che oggi dove invece la videosorveglianza viene portata da tutti a tutti i livelli e avendo i dispositivi pronti al collegamento è una cosa che invece porterà dei grandi benefici a tutte le attività connesse perché in tempo reale, ribadisco, in tempo reale quello che può essere l'atto criminoso presso la propria azienda di attività viene rilevato e trasmesso direttamente alla centrale operativa delle forze dell'ordine Spieghiamo meglio quali sono gli invitati a questo appuntamento di venerdì e come si svolgerà? Allora noi iniziamo una registrazione ospiti alle 17.30 per permettere a tutti di avere la propria cartellina e di essere pronti a quello che sarà la presentazione la presentazione sarà sulla conoscenza del dispositivo verrà fatta una dimostrazione di quello che in tempo reale succede nel momento che viene generato l'SOS e parte l'allarme verso le sale operative delle forze dell'ordine quindi si farà vedere l'apertura delle immagini delle telecamere e quello che dalla sala delle forze dell'ordine faranno per coordinare l'intervento migliore da fare quindi questo è un sistema che è anche economico economico perché? Perché l'intervento è mirato non c'è l'intervento comunque se scatta l'allarme ad esempio potrebbe esserci qualcuno o potrebbe essere scattato per niente quindi si va effettivamente se c'è l'effrattore c'è la possibilità di tramite i mezzi della polizia entro due ore di prendere l'effrattore ma soprattutto si risparmia il carburante si risparmiano i costi che sono dell'intervento del pronto intervento perché? Perché grazie a questo protocollo di intesa con il ministero dell'interno i carabinieri hanno già le loro immagini sette giorni registrate le immagini soccriptate quindi non viene pagato niente di più che un semplice canone mensile più che un punto di arrivo è un punto di una nuova partenza per dare un servizio ancora migliore a quello che la mia azienda con mia moglie, mio figlio e i miei collaboratori ha sempre dato in tutto il territorio io sono 45 anni che faccio l'installatore e poi il direttore in azienda e la nostra volontà è stata quella sempre di progredire e di migliorare verso tutte quelle che sono le tecnologie attuali che permettono sicuramente di avere una sicurezza a 360 gradi sia per le case che per le aziende Ultimi giorni a Pesaro per Enrico Blandini al comando della Guardia di Finanza Provinciale aspettando l'avvicendamento col nuovo comandante Blandini è stato accolto oggi dal presidente della provincia Paolini per ringraziarlo del lodevole lavoro svolto in questi anni A Vallefoglia tutte le scuole presenti sul territorio comunale sono risultate agibili e non hanno riscontrato alcun tipo di danno alle strutture dopo il sisma E quanto comunicato dal sindaco Ucchielli sottolineando i lavori fatti in questi anni con la nuova palestra Palafoglia Seston the Day e le tre nuove aule presso la scuola dell'infanzia il Girasole la nuova scuola primaria in legno Federico da Montefeltro l'ampliamento in legno della stessa Giovanni Paolo II e rinnovamenti antisismici alle scuole dell'infanzia Regina Reginella II E parliamo anche di spettacoli perché domani giovedì 17 novembre con tempo in fausto di Cesare in Zerillo si apre il sipario sulla nuova stagione del teatro Sanz di Urbino nata dalla rinnovata collaborazione tra il Comune e Amat in Zerillo porterà Urbino a scoprire Fausto Coppi campione dei campioni nel ciclismo uno dei più grandi atleti del Novecento ma anche un uomo fragile Tempo in fasto non è infatti una biografia ma prende a riferimento Coppi alcune immagini della sua vita per parlare del tempo attraverso una storia dal sapore di dramma pop un racconto onirico dentro un immaginario fiavesco e surreale Il weekend scorso si è conclusa da Qualagna l'ultima delle fiere del Tartufo sul nostro territorio ma già da lunedì è partito un nuovo festival itinerante dal titolo Tartufo tutto l'anno nelle Marche ed è partito da Cavirginia Country House di Borgo Massano fra una tavola rotonda e dimostrazioni di chef come potrete vedere nello speciale che vi trasmetteremo venerdì 18 novembre alle 21.20 ma del quale inforniamo ora qualche anticipazione attraverso le interviste realizzate dalla nostra Nicoletta Tagliabracci Ieri si sono spenti i riflettori nell'ultima fiera della marchigianità ad Aqualagna da oggi parte il festival del tartufo marchigiano non solo più la pepita più preziosa il bianco pregiato ma tutti gli altri tartufi che in questo momento e fino a Natale sfileranno nelle cucine nelle mense, nelle tavole della grande ristorazione quindi puntiamo sì ai tartufi di grande pregio ma anche a quelli più democratici più magari meno noti ma anche di grande classe e cinque chef oggi di tutte e cinque le province marchigiane sfileranno ognuno avrà la propria pepita non tanto per essere il piatto migliore ma per dare una declinazione dove tutti i tartufi si possono utilizzare tutti hanno la loro identità tutti hanno una traccia importante in cucina e gli chef ce lo manifesteranno ma partiamo con un bellissimo una bellissima tavola rotonda abbiamo ospiti autorevoli importanti di grande prestigio per raccontare il turismo enogastronomico tra tartufo, territorio e narrazione l'idea di poter avere un'offerta interessante anche da un punto di vista enogastronomico e per il territorio della regione Marche quale migliore occasione se non quella proprio di pensare al tartufo quindi in tutte le sue versioni quindi tutte le sue specialità e tutto l'anno quale elemento ed eccellenza enogastronomica proprio del territorio affinché possa essere proprio tutto l'anno un festival del tartufo nel territorio Si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News ma come sempre vi diamo alcune anticipazioni della nostra prima serata che comincia subito dopo il telegiornale per chi ci segue nella nostra prima edizione delle 19.40 infatti alle 20.10 vi presenteremo il progetto Ergeva quello che prevede in un'area industriale di smessa di San Lorenzo in campo di realizzare un nuovo polo scientifico agro-tecnologico come detto appuntamento questa sera alle 20.10 a seguire spazio ad una novità di Rossini TV che vi abbiamo ampiamente annunciato questi giorni parte ci inviti a cena con i nostri Paolo Pagnini e Nicoletta Tagliabraccio un nuovo format che andrà nelle tavole delle case di voi telespettatori che sarà in scena tutti i mercoledì in onda tutti i mercoledì alle 21.20 me ne abbiamo parlato in questi giorni oggi vi svegliamo anche la casa della prima puntata sarà quella di Mariangela Albertini di Gradara per quanto riguarda l'informazione buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa vi dà appuntamento come sempre dal lunedì al sabato anche domani in diretta alle 7.20 rassegna del giovedì che sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi ed è davvero tutto per questa edizione del telegiornale da parte mia di tutta la redazione vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi